1111 chilometri di strade provinciali e 378 ponti senza più manutenzione. Il direttore generale della provincia Vittorio Silva ha annunciato il blocco del contratto quadro che avrebbe garantito la manutenzione della rete stradale di competenza della provincia. A rischio, dopo i tagli mannaia previsti dalla legge di stabilità, anche il riscaldamento nelle scuole. Il presidente della provincia Francesco Rolleri ha proposto tavoli di aggiornamento settimanali sulla situazione con il coinvolgimento dei parlamentari piacentini, presenti questa mattina all'incontro con i sindaci indignati dopo l'ennesimo taglio di risorse che penalizzerà i servizi per il cittadino. Dopo questo tsunami di demagogia che abbiamo avuto alle spalle si arriva alla verità, cioè le province come istituzione ormai non costano più niente, sono i sindaci, quindi se non che adesso si arriva nelle tasche dei cittadini sul tema dei servizi.